in questo video tutorial noi andremo ad analizzare un componente aggiuntivo che si chiama mot è un componente aggiuntivo che va benissimo e quindi appunto si si applica a google docs ma anche a google presentazioni e a fogli di google ed è un componente aggiuntivo che ci permette di mandare dei feedback o dei messaggi audio ai nostri ragazzi e vediamo allora in che modo poter procedere innanzitutto a scaricare questo componente aggiuntivo e poi naturalmente a vedere le funzionalità procediamo nella prima operazione e cioè noi dobbiamo andare sul nostro web store e andando sul web sul web store un attimo andiamo su internet andiamo su chrome e cerchiamo appunto il nostro web store chrome web store ecco qua viene già indicato andiamo su appunto il questo negozio dei componenti aggiuntivi di chrome e qui dobbiamo soltanto mettere naturalmente il nome di questo applicativo che è mot m o t e mot a questo punto premiamo invio e arrivano una serie di estensioni mot è questo è il primo questo che vedremo ora naturalmente si applica a tutte quante le estensioni la procedura cioè con cui noi scaricheremo mot sarà poi valida per tutte le altre estensioni comunque un'oltre individuato ci clicchiamo sopra si apre un'altra pagina dove ci sono tutta una serie di spiegazioni interessanti sulla una panoramica su questo addon altre informazioni di contesto qui il nome dello sviluppatore e ci sono anche delle informazioni interessanti per quanto riguarda naturalmente la privacy una volta che noi siamo d'accordo possiamo fare anche una veloce insomma l'escursione in questo molto c'è anche un piccolo video tutorial che ci aiuta insomma in questa operazione una volta che siamo convinti che questo è il componente aggiuntivo che ci interessa aggiungiamo clicchiamo su aggiungi questo punto ci chiede naturalmente di aggiungere l'estensione quindi dobbiamo dire sì aggiungi estensione e l'estensione sarà appunto aggiunta questa estensione comparirà qui avete visto è comparsa per pochi secondi e poi scomparsa non perché naturalmente è un'estensione che è stata andata persa ma basta cliccare su questo pezzo di puzzle e qui appunto abbiamo le estensioni che noi abbiamo scaricato se vogliamo mantenerle su questa barra degli indirizzi basta cliccare su questo pin quindi blocca estensione in questo modo l'estensione verrà appunto caricata e sarà stabilmente come vedete sulla nostra barra degli esercizi a questo punto dobbiamo si è aperta una pagina in cui ci chiede naturalmente che dobbiamo essere almeno maggiorenni e ci indica tutta una serie di caratteristiche insomma cioè noi abbiamo ovviamente preso visione dei termini e della privacy che possiamo leggere ed è insomma una privacy che rispetta le caratteristiche dell'Europa per l'Europa clicchiamo con l'account al quale vogliamo appunto scaricare questo componente aggiuntivo fa lavorare naturalmente questo componente aggiuntivo ed ecco che insomma il componente aggiuntivo è pronto anche qui una serie di brevi schermate che ci guidano praticamente nelle funzionalità base di mod e a questo punto possiamo procedere a vedere appunto di applicare mod noi lo possiamo applicare su google documenti come su presentazioni come su fogli di google come abbiamo detto all'inizio lo vedremo su google documenti perché poi la procedura ovviamente uguale un po in tutto quindi apriamo un google documenti quindi torniamo alla nostra pagina iniziale e in questo modo noi andiamo di fatto a trovarci le nostre solite un nostro solito quadratino e andiamo su google documenti naturalmente scegliamo un documento nuovo a questo punto come al solito dobbiamo sempre ricordarci di mettere subito il nome perché altrimenti molte delle funzioni sono praticamente inibite una volta che siamo appunto su google documenti noi possiamo ovviamente correggere possiamo correggere naturalmente questo un testo che ci sono mandato dagli alunni mandarli cioè un feedback praticamente immediato più veloce del commento proviamo a scrivere in questa relazione ho intenzione di parlare di cesare che cosa dobbiamo fare come operazione fondamentale dobbiamo evidenziare quello che noi abbiamo scritto perché è come se noi volessimo mandare appunto immaginate io studente e io quindi docente voglio mandare al me studente un feedback su questa frase che lui ha scritto vedete che appena ho evidenziato è comparso il più del commento mentre prima non c'era nessun più compariva solo in questo momento quando io mi mettevo alla fine del cursore evidenzio la frase che voglio commentare clicco su aggiungi un commento e questa è la stessa identica operazione che noi abbiamo fatto e che vi ho già diciamo ho già commentato nel google docs però guardate rispetto a quanto abbiamo detto precedentemente qui compare già il simbolo di mot quindi io posso tranquillamente aggiungere un commento vocale e quindi clicco per registrare come mi dice appunto dalla prima ipotesi che naturalmente io devo dichiarare insomma tutte queste cose insomma che in parte già ho dichiarato precedentemente e appena concludo l'operazione ecco mi dice il tempo che io devo impiegare per registrare buongiorno ragazzi quello che tu hai scritto mi sembra un buon inizio a questo punto clicco don immediatamente il commento si trasforma in un file in un link e a questo punto una volta che io sono appunto contento di quello che ho detto in questo commento basta che clicco commenta per pubblicare il commento immediatamente il commento viene pubblicato e il ragazzo può tranquillamente cliccare su questo tasto verrà indirizzato sulla pagina del login di mot ma questo insomma non cambia molto e può ascoltare il messaggio che ho mandato molto io posso mandare messaggi di varia lunghezza però se mi limito a quelli 30 secondi non pago niente quindi di fatto dobbiamo scegliamo appunto il moto come appunto abbiamo già scelto il moto gratuito quindi a 30 secondi penso che sia più che sufficiente per mandare un veloce feedback se poi voglio fare un commento posso tranquillamente avere due strade davanti o vado sulla versione a pagamento tutto sommato sono 39 euro per tutto l'anno oppure se voglio rimanere come penso sia opportuno una versione non a pagamento basta aggiungere vari commenti quindi più commenti allo stesso lo stesso passo dei ragazzi questa è l'operazione di mot che mi sembra molto utile appunto per come dicevo all'inizio per mandare un feed immediato ai ragazzi e nello stesso tempo anche per suggerire delle istruzioni per esempio possiamo mettere un titolo a un nostro google docs che dobbiamo mandare ai nostri ragazzi come compito scriviamo il titolo evidenziamo il titolo e li mandiamo un messaggio vocale come istruzioni per il compito stesso ora invece andiamo a vedere come possiamo mandare una nota vocale ai nostri alunni da classroom attenzione se vogliamo mandare un questa nota vocale i nostri alunni non possiamo semplicemente per esempio metterci sulla bacheca su stream e cliccando appunto sul sul testo da scrivere trovare immediatamente il simboletto di mot che ci dice che possiamo mandare appunto una nota vocale dobbiamo procedere in una maniera diversa e cioè vogliamo mandare ragazzi un compito ma le istruzioni sono abbastanza lunghe quindi direi vogliamo dare a voce allora dobbiamo prima mandare il messaggio ragazzi quindi possiamo dire insomma svolgete svolgete l'attività l'attività che vi sto inviando in allegato a questo punto aggiungiamo una di queste attività per fare velocemente prendiamo un file e lo uploadiamo dal nostro computer uno qualsiasi prendiamo questo a questo punto aspettiamo che il file si sia caricato ecco una volta che noi abbiamo caricato appunto la l'attività la dobbiamo prima di tutto pubblicare appena abbiamo pubblicato l'attività immediatamente possiamo metterci su questa punto su una striscia di testo e vedete cliccando sopra sul commento sulla parte punto da commentare esce immediatamente il simboletto di moto quindi non possiamo inviare direttamente un vocale ai nostri ragazzi ma dobbiamo diciamo aggirare l'ostacolo in questa modalità e allora io clicco appunto su mode ragazzi allora vi invio questo vocale per spiegarvi meglio che cosa dovete fare una volta che abbiamo finito naturalmente il vocale è pronto per essere spedito devo soltanto cliccare su questa freccia che dice appunto pubblica una volta che pubblicato ecco qualsiasi ragazzo anche quelli che non hanno scaricato mode possono ascoltare il vocale e quindi appunto cliccando su qui e sul tasto possono semplicemente sentire la nota vocale che mandato e questo è l'unica modalità perché di fatto mode nasce per commentare a voce determinate attività quindi l'abbiamo visto prima per commentare un google documenti oppure per commentare rispondere anche alcune domande di dei ragazzi immaginiamo che appunto i ragazzi sullo stream abbiano lasciato un commento prof domani cosa facciamo italiano latino invece di dover scrivere noi possiamo tranquillamente rispondere quindi comparirà immediatamente il simboletto di mode rispondere loro attraverso appunto un vocale grazie a tutti Grazie.